Ciao ragazzi, state bene amici di Radio Bruno? Io sono qua con... Martina Martina, non ti fa strano stare tutta sola qui? Sì, molto Tu perché sei venuta? Sei biondo E voi perché siate venuti? Non ti fa strano stare tutta sola qui? Come state? Tutto bene? Eeeh! Vi sento carichi? Questa è la cosa più bella che potesse capitarvi Quindi vi ringrazio pure di tutto questo affetto E' un'unica bravo! Grazie veramente! E' un'unica bravo! 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 Grazie per la visione!